Il KO di Ruvo e dei successi di Barlette delle Molfettesi che concedono il BIS dopo il successo nella prima di campionato. Sono questi i principali verdetti emersi dalla seconda giornata dei tornei di Serie C Gold e Silver. In Serie C Gold non riesce il BIS a Ruvo. I Ruvisi cadono al pala Colombo contro i Tarantini di Cusionico per 80 a 79, con gli ospiti capaci di reggere il prepotente ritorno dei padroni di casa nel finale. Con 29 punti è Simaitis, il miglior marcatore della partita e della giornata. Ruvo ha mancato il BIS di Vittoria, concesso invece da Palacanestro Lupalecce, Monopoli, Vieste e Francavilla. Ed è di quest'ultima la fermazione più combattuta, 70-69 contro Libertas Altamura. Emozione aiusa anche al Palaventura di Lecce, dove i locali inseguono nuova Palacanestro Ceglie per buona parte dell'incontro, ma mettono la freccia solo nell'ultimo segmento per l'81-76 finale. Punteggio più basso, 66-54, mandamento simile a Monopoli, dove Action Now regola Mola New Basket 2012 negli ultimi 10 minuti. La squadra di Ambrico è ora attisa dal secondo incontro casalingo consecutivo, proprio contro Vieste, che completa il poker di testa dopo il 77-67 su Monteruni. Dura, invece, fino a metà gara, l'incrucio fra Cestistica Ostuni e il rospetto Valentino Castellaneta. Dopo un primo periodo equilibrato, la squadra di Romano scatta nel secondo e dilaga dopo l'intervallo per il 92-64 finale che vale i primi due punti giallo-blu. Nessuna incertezza nel secondo turno del campionato di Serie C Silver. Ampi divari su tutti i campi a cominciare dagli incontri che registrano lo scatto in avanti delle quattro squadre a punteggio pieno. In due, addirittura, hanno toccato quota 100, chiudendo con un eloquente più 27. Si tratta di Day Optical Virtus Molfetta, 101-74 contro Adria Bari, e Rossito Nuova Cestistica Barletta, 100-73 in casa di una P Monopoli rimaneggiata. Per i Molfettisi De Belli sta diventando una piacevole abitudine, anche grazie all'apporto di Pole Kauskas e Marcerinis, 55 punti in due a questo giro. Mani caldissime anche fra i ragazzi di Degni, che mettono all'occhieglio il miglior marcature di giornata. Stevens con 30 punti, oltre allo svedese Addersten che si ferma a 27. La sticella per Barletta si alzerà inevitabilmente domenica prossima nell'incrucio casalingo con Anspi-Santarita-Taranto, altra squadra che scoppia di salute. Tanto minutaggio per gli under nell'incontro che gli onici dominano contro Kaus-Bari fino al 76-49 finale. A gonfiavele anche l'altra Molfettisi-Palacanestro, che passa a Foggia sul campo della giovanissima Diamond per 81-38 con tutti i giocatori a canestro. Si sbloccano Manfredonia e Dinamo-Brindisi, che capitalizzano il fattore campo in due convincenti vittorie. I Siponzini del Florio superano per 88-54 l'altra Brindisina invicta. Nel primo dei due turni interi imprevisti dal calendario, invece, Dinamo non tradisce e batte Murgia-Santeramo per 89-49.